I consumi crescono per il sesto anno consecutivo. Secondo la 26esima edizione dell'Osservatorio Findomestic, gli italiani hanno speso nel 2019 1.090 miliardi tra beni e servizi, l'1,1% in più rispetto al 2018. Un contributo significativo giunge ancora una volta dai consumi di beni durevoli in crescita del 2,1% rispetto al 2018. A fare la parte del leone, il comparto veicoli, che nel 2019 vede crescere la spesa delle famiglie per l'acquisto di auto nuove. Ancora in calo il diesel, a vantaggio delle auto a benzina e ad alimentazione alternativa. Resta tuttavia ancora marginale la quota delle full electric. 2019 positivo anche per le auto usate per i motoveicoli. Mercato in progressivo recupero nonostante l'ennesima contrazione delle vendite dei cinquantini, penalizzati anche dalla concorrenza delle e-bike. Tra i beni durevoli per l'area casa, le migliori performance si registrano nei mercati mobile ed elettrodomestici, che beneficiano della proroga degli incentivi fiscali e della ripresa del mercato immobiliare. Battuta d'arresto invece per il mercato della tecnologia, che sconta la prima flessione dell'ultimo decennio del mercato degli smartphone, in un contesto condizionato dalla minore spinta dell'offerta in attesa dell'avvento del 5G. Ancora in calo anche i televisori, mentre prosegue il boom degli smart speaker, sempre più presenti nelle case degli italiani. Una spinta importante ai consumi di durevoli giunge dall'e-commerce, che vanta un'incidenza superiore al 20% nei mercati della fotografia, dei piccoli elettrodomestici e dell'informatica. Significativo anche il sostegno ai consumi offerto dal mercato del credito, che cresce del 4% nel 2019 e che risulta sempre più fondamentale soprattutto nei mercati veicoli. Basti pensare che oggi si vendono a rate circa il 75% delle auto nuove e il 90% delle auto usate e delle moto. Basti pensare che oggi si vendono a rate circa il 50% delle auto usate e delle moto.